online adesso sulla play se volete venire a fare qualche ranking qualche partita insieme scrivetemi il vostro id in direct vi aspetto eccolo eccolo 1 2 3 4 5 ecco arman ok adesso vi invito ragazzi allora vi invito amici si è appena svegliato sono le 13 52 ma a che ora sono andato a letto ieri forse saranno state le tre mi piace alla play che a volte sembra che vuole uno shuttle vuol decollare a volte assurdo fa un bordello mi viene qualche volta pulire l'entone perché sennò esplodono veramente sulla play dici ma sì sì è assurdo poi oh ma come mai non ho questi operatori sbloccati ma che cazzo ah perché sono su play con io sì ma non è possibile che io abbia solamente tre sbloccati ma è assurda sta cosa dovrebbe dare quelli la normali che si è impasso no quelli normali no quelli normali te li dovrebbe dare eh ma manco quelli di ma dato cioè io adesso avevo sbloccato solamente lesion mira e ela eh boh boh forse è un glitch no forse è un bug boh boh forse devi riparare il gioco eh provate a riparare il gioco perché come tre operatori non so dove vai e infatti ah al momento si al momento si finchè la console non è pronta si ecco ma a good of war la continui vero a good of war guarda che non era il gioco era solamente una cosa che mi hanno spedito un pacchetto bella eh ma non c'era ma non lo fai pensavo lo comprando non mi piace c'è finca con 50 di vita attenzione anche sopra sopra dov'è? l'ho fatto l'ho fatto al tipo no no resettami eccolo eccolo regà eccolo eccolo bella a me è morto vabbè vabbè li copro io vai vai buono è buono ok sta fuori è fuori quel c'olato oh regà io vado come un matto ah no me lo siete già fatti non ho fatto un cazzo non ho fatto niente apposso fa tutto il giro fatto bene fatto bene gg guardalo che spottino oh ragazzi ce li ho tutti bloccati si ma regà ma è una cosa assurda c'è 1 2 3 4 5 6 let's go eccoli eh vorresti fermo fermo guarda scusate se lo gioco ma ho una cucchia un po' rossa ah non lo fa più eh c'è poco è difficile quella perchè ho le fuzzie bluetooth e il mio gatto è andato a mordere il cavetto abbiamo il disinnescatore quindi è un po' oh fai tipo così abbassa la sensibilità del microfono abbassavo uno del microfono se riesci esatto oh ma che è qua oh mi sta sto allaggando eh però così Rick ti si sente anche piano no mi no vabbè che culo di merda amica cazzo mentre lo ha col terzo non sto mamma mia è buce mi si tirerà il c4 in faccia cazzo aspetta che mi sa che uno è qui va la bomber aspetta che lo piglio no è sopra scale jäger scale che meno la pulsa era qua va qua tech bravissimo no ricarico bella ragazza le scale entra entra e planta non sta dentro avete già fatto voi bella bella bravi ma così mi sentite abbastanza si 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 dai così è buono così è perfetto yes yeah oh raga oh sto glitch continua anzi adesso stavolta ah no vabbè è sempre come prima in pratica adesso posso usare solamente due due solamente mira o purella no è bellissima è perché uno di quei ve lo siete già presi voi il vigil posso però però vedete che l'avete preso ah a sto punto mi sa che mi piglio mira raga ok ho preso il vigil bella grazie ma oh sta roba è assurda però cioè perché perché continua a fare così forse devi riaprire l'applicazione credo sì però c'è se uno gli succede in ranking sta cosa e se ti prendono tutti quegli operatori che puoi prendere tu ovvero solamente tre o quattro cioè poi dopo cosa fai recluta spera che sei squadra da cinque o quattro raga non lo metto tutto a di esso prepararsi all'azione nemica si allestate che un posto ho tirato mamma mia raga mi sono messo avete visto il nerd di lion mi ha ferito uno mi ha ferito uno mi ha ferito il vano mi ha ferito il ferimento ha ferito il ferimento mi ha ferito il ferimento oh finalmente l'ho fatto uno bello attento che ce n'è un altro lì eh ce l'ho visto sono qua fuori ero oh sei uscito mi ha ferito mi ha ferito il ferimento mi ha ferito il ferimento aiutare attenzione spara mentre falte bag aspetta vai dove si sta il defiger Dov'è deciso, dov'è? E' sopra Aspetta, guarda le lana E' qua, è qua E' là da lontano E' venito in the bigger là E' là da lontano fa veramente Che cari, scusate Sì, è vero Mamma mia Ma è là Però da vicino è imbattibile Da vicino scioglie 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 il gelato Sta fuori, sì Ma se li fa il giro Ma se li fa il giro Ce l'hai dietro, ce l'hai dietro Ti sta aspettando Guarda lì Ti consigli di te che no Ma tu, no, lo sapeva te che No, no, no Vi giuro Vi giuro che non lo sapevo io Cioè, io pensavo fosse su scale Sarà che sono abitato a un volume C'è, è un po' più alto il volume Però c'è C'è, non ho sentito Manco io E so che era ancora sopra io No, ma guarda Le mie idee geniali Perché non vai a fare il giro Cheat Vabbè, buono Sciottali fuori Mi sciolgo anche con questo Oh ragazzi Ancora eco Prova, prova Ah, io ho capito C'è ancora eco come No, no Il migratore No, no, no Proprio eco, eco Ah, ma io sento Quanto è la sensibilità, Dadof? 100 Mamma mia A me viene il vomito Così Ma lui da dentro Oh ragazzi Lascia il discusare Raga, ditemi quando volete Che figlio Il cellulare Ok Oh ragazzi Io stavolta entro Da sopra Farò un giro Lunghissimo Però Entro da sopra Guarda che vi faccio questo Così vediamo se si muove Qualche infame Guarda lì che ti begga No Ora lì Dadof, dove vogliamo Guarda qua Dadof, a me c'è Qua tutto libero Dadof, stanno qua Non ci conveniva Qua, qua Tito, non aspetta Faccio sui le cellulare Tito Cambio caricatore Ragazzi Qua Voi le vicine Voi le vicine Voi le vicine Ti faccio vedere i nemici Va qua Abita tu Raga Vai, ho la glamour Oh ma neanche uno Ho pigliato in testa Sperimento uno Sperimento uno Culse Basta Non mi lascio Sei un cane Sei un cane Sei un cane No ragazzi Qua, qua, qua Hai dato Tu fai ieri Tantissimo No, zolok dietro C'hai il muto dietro raga Alla mano c'era dietro Dov'è? Eh, là Tec, là Spot Eh, no Non ce l'ho Quale avrò Mi ha ammazzato No, col V Col V Così tipo Stavo sperando No, no Chi ero morto Ecco Poi armando Minchia GG C'è ancora uno Mia raga Mentre ho rubato tutto Ladri Mamma mia Let's go No, qua L'MVP è stato Zaire O'Brien Eh, lui è MVP in sta partita In contrastato Tantissimo Grazie a tutti